Ho voluto capire gli accordi di Selsi. Prego Presidente, si tratta sulla Brexit, su un accordo, però fino a quali costi si possono sostenere? Io sono abbastanza mista, credo che un accordo ci sarà, lo vedremo nelle prossime ore, ma credo che sia ragionevole immaginare un accordo che consenta al primo ministro Cameron di affrontare e noi tutti speriamo di vincere il referendum di giugno o di quando sarà. L'altro tema è immigrazione, l'Austria chiude le frontiere, manca ancora una strategia europea. Oggi fate dei passi in avanti in questo senso? Speriamo, nel senso che un anno fa questa tematica era una tematica soltanto italiana. Piano piano, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia, abbiamo convinto le istituzioni europee a occuparsi di una questione che è una questione di portata storica, che non durerà qualche giorno, ma durerà mesi, probabilmente anni, e che ha bisogno di una strategia europea. L'Austria ha una posizione che è comprensibilmente molto difficile, perché stiamo parlando, pensate che l'Austria oggi ha più richiedenti asilo dell'Italia, in termini assoluti, e l'Austria è un paese decisamente più piccolo dell'Italia e meno popoloso, quindi il tema austriaco esiste, tuttavia non possiamo neanche immaginare di chiudere il Brennero, che è simbolicamente, e non soltanto simbolicamente, uno dei grandi elementi di unione in Europa, quindi si tratta di lavorare insieme, io penso che sia necessario fare quello che abbiamo sempre detto, cioè che occorre avere una strategia a monte, investimenti di cooperazione internazionale, investimenti nei territori di partenza, in alcuni casi investimenti diplomatici, come possono essere in Siria o in Libia, o investimenti economici, come nel cuore dell'Africa. Mi pare che si sia iniziato a capire che il tema non è soltanto dell'Italia, è un tema di tutti, le risposte teoricamente ci sono, vediamo se nella pratica riusciremo finalmente a fare un altro passettino in avanti. Ma se si chiude la rotta balcanica l'Italia è pronta per una nuova andata di profughi? È del tutto evidente che noi dobbiamo lavorare perché non vi siano emergenze nei Balcani, non sarà facile. Dopodiché l'Italia è sempre pronta a fare la propria parte, ma la vera domanda oggi è l'Europa è pronta a fare la propria parte e l'obiettivo di questo Consiglio europeo è esattamente questo, capire se si passa da un atteggiamento tattico di risposta immediata, un atteggiamento strategico dove ci sia un orizzonte di lungo periodo. Grazie. Per chi crede alla realtà il 2015 è stato l'anno in cui si è visto che Dublino non funziona e anche la richiesta che viene dagli austriaci è quella che funzionino i sistemi di relocation e anche i sistemi di rimpatrio. Allora io credo che la vera risposta sia quella di chi oggi dice sia l'Europa a gestire non soltanto la riallocazione in tutti i Paesi membri dei richiedenti asilo, ma sia anche l'Europa a gestire i rimpatri. Noi siamo il Paese che ha fatto più rimpatri di tutti. Se voi guardate la classifica, il Paese che ha più riportato a casa persone è stata l'Italia. Però se anziché farlo l'Italia da sola, lo fa l'Unione Europea e accanto a questo lavoro di rimpatrio fa anche investimenti di cooperazione internazionale in quel Paese, magari utilizza il corso di formazione per avvicinare alcune di queste persone, penso su un settore, l'agroalimentare, l'agricoltura. Mi riferisco in particolare all'Africa, ma non solo. Quindi se fai una strategia europea comune, è chiaro che le cose funzionano molto meglio. Quindi Dublino è fallito, Dublino ha fallito, è sotto gli occhi di tutti. Che poi ci siano alcuni colleghi che per motivi comprensibili interni vogliono dire il contrario. Questo sta nelle regole della politica, ma il dato di fatto è che oggi il Consiglio Europeo e nei prossimi Consigli Europei, perché questa storia della migrazione la vedrete anche al prossimo Consiglio Europeo, la vedrete a quello di giugno, per anni si è fatto finta che non ci fosse, si è pensato di nascondere la polvere sotto il tappeto. Adesso vediamo che invece è una priorità. Quello che io credo che sarà molto interessante per i prossimi Consigli Europei è che sia che venga formalmente sancita la fine di Dublino, sia che non venga formalmente detto la verità dei fatti, è che Dublino non funziona più e lo sanno tutti. Grazie.